I lupi cui aveva pensato tutta la giornata non erano più i lupi sulla strada al lume della luna. Erano diventati il tema dei lupi, una figurazione di forza avversa che si era prefissa di perdere lui e Lara o di scacciargli da varichino. Però, sviluppandosi, l'idea di questa forza ostile aveva assunto verso sera un'intensità estrema, come se nella sutma fossero riemerse le tracce di un mostro antidiluviano e nel burrone si fosse rintanato un drago favoloso, di mostruosa grandezza, avido del suo sangue e di quello di Lara. Benne sera. Come la vigilia, Zivago accese la lampada sulla scrivania. Lara e Catenka andarono a dormire più presto dal giorno prima. Quello che aveva scritto durante la notte si divideva in due gruppi. Vecchie cose, ricopiate nella nuova redazione, erano scritte ordinatamente, in bella calligrafia. Le nuove erano invece buttate giù in fretta. Abbreviazioni, segni, sgorbi illeggibili. Decifrandole provò la consueta delusione. La notte prima quegli abbozzi l'avevano indotto alle lacrime e alcune parti riuscite colmato di meraviglia. Ora proprio quelle lo deludevano e ammareggiavano per le troppo evidenti forzature. Per tutta la vita aveva sognato un'originalità sobria, smussata e irriducibile all'esterno, nascosta sotto il velo di una forma ovvia e continua. Per tutta la vita aveva mirato all'elaborazione di quel linguaggio semplice e discreto, in virtù del quale lettore e ascoltatore si impadroniscono del contenuto senza accorgersi del modo in cui lo assimilano. Per tutta la vita aveva cercato uno stile inavvertito, che non attirasse l'attenzione e fu spaventato dal constatare quanto fosse ancora lontano da quel raggiungimento. Negli abbozzi della notte aveva voluto esprimere, con mezzi che per la loro elementalietà confinavano col balbettio e la suggestione di una ninna nanna, il proprio stato d'animo fatto d'amore e di paura, d'angoscia e di coraggio, in modo che esso si comunicasse di per sé, quasi indipendentemente dalle parole. Ora, esaminando quei tentativi, trovò che erano privi di un contenuto organico, capace di dare una coesione ai versi che parevano sgretolarsi. Cancellando via via quel che aveva scritto, prese a verseggiare, sul suo stesso tono lirico, la leggenda di Agori, il coraggioso. Cominciò dal primo pentametro, che concede piena libertà. Ma la sonorità, indipendente dal contenuto, propria di quel metro, lo irritò con la sua falsa euforia retorica. Abbandonò quel metro enfatico con la cesura, costringendo le parole nei confini del tetrametro, come chi scrive in prosa, lotta contro la verbosità. Scrivere divenne più difficile e più attraente, il lavoro procedette più vivo, e tuttavia vi penetrava ancora un'eccessiva facondia. Si costrinse a una versificazione ancora più breve. Nel trimetro le parole entravano a fatica, svanirono le ultime tracce di sonnolenza, si rianimò, si infervorò. L'angustia metrica suggeriva di per sé le parole. Gli oggetti appena nominati cominciarono a delinearsi sul serio nella cornice della memoria. Sentiva il passo del cavallo, che camminava sulla superficie della poesia, come l'ambio del cavallo, in una delle ballate di Chopin. Giorgi il vittorioso galoppava per le sconfinate distese della steppa. Lo vedeva da tergo, allontanarsi, rimpicciolire. Scriveva con fretta terribile, riuscendo appena a trascrivere le parole e i versi che gli nascevano tutti a proposito e al loro posto. Non si accorse che Lara si era alzata dal letto e avvicinata alla scrivania. E la lunga camicia da notte che le giungeva fino ai piedi sembrava sottile, magrolina e più alta di quanto in realtà non fosse. Yuri Andreevich trassalì dalla sorpresa, quando se la vide accanto, pallida, spaventata, che, protendendo una mano, gli chiedeva in un sussurro «Senti, c'è un cane che ulula. Forse due. Ah, che cosa terribile. Ha un brutto segno. Resistiamo ormai fino al mattino, ma poi partiamo. Filiamo. Non posso restare qui un minuto di più». Dopo un'ora, rassicurata e persuasa a fatica, si calmò e riprese coraggio. Yuri Andreevich uscì sul terrazzino d'ingresso. I lupi erano più vicini della notte precedente e si nascosero ancora più in fretta. Di nuovo non riuscì a distinguere in quale direzione fossero fuggiti. Erano in branco e non pote contarli. Gli parve però che fossero anche più numerosi della sera prima.